Ciao a tutti, siamo tornati io e Lele, Lele che sta bestemmiando da prima Buonasera, buonasera bella gente, benvenuti Che stai facendo? Io non lo so, io non lo so, no non lo so, ogni cosa schiaccia Hai la torcia accesa Lele, hai la torcia accesa Premi la F di Firenze, ok, ok Puoi entrare L'incoglianito puoi entrare? Sì ce la faccio Cioè io da questo morso non sto guarendo ragazzi, incredibile No zio, allora ti devo guardare un attimo però No 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 va bene, cioè nel senso Tu quanto hai di... Quattro? Cinque? Mi ricordo Ma non è quello il problema, il problema è che il morso proprio ci mette troppo tanto a guarire Aia, aia, aia Però non c'è, non sono malato perché altrimenti sarei già morto Allora qui mettiamo una X in questo qui che ci siamo stati Poi andiamo avanti Andiamo avanti E ci facciamo queste tre villette che sono qua Oh questa villetta è chiusa Buono Interessante Zio aspetta un secondo Scusami Ok Ok Metto la X nella mappa Ok Come sta Adesso Faccio così Metto il mio zaino In vostra sulla schiena E lo zaino zio Lo tengo Lo tengo Nell'altro zaino Ok Senti io starei insieme perché qua mi sa che ci sono Nooo Spera, 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 fammi, fammi Fammi che mi aspetti Faccioatura, cammiferi Martello Ma Nooo Questi no Ma va Ma va Ascolta Ok Qua nel casottino ma non c'è niente di generatore Eh andiamo a cercarci a girarci tutti i casottini, tanto sempre qua sono eh, non è che ci vuole un genio Allora vediamo un po', in casa c'è una finestra aperta Se vogliamo andare a Non mi chiedo per... E capisce perché c'è la finestra aperta Già lì sento Eh eh E Sigma Andiamo a vedere Entriamo Entriamo gli da dietro S-so ne entrato, son entrato L'ho sentito, ho sentito il BZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZIX cultivation Ma non entrare, aspetta Vieni, che fretta c'hai E da dove sono usciti? Infatti Cos'è che hanno rotto? No, non lo so Ho sentito rompere qualcosa Secondo me a sud Qua Non è in questa stanza qui, per esempio Ah, ok, ho visto, ho visto In questa stanza qui Eccolo Non c'è più È morto Eh, c'è ancora gente, eh, però Perché c'è gente che ci guarda dalla finestra Mi senti? Ti sento, ti sento Ma che film? Ah, sì, 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 eccolo Eh, eh, eccolo Ok Venti, lei ha gli orecchini con rubino se li vuoi mettere No, guarda Visto la fortuna che mi ha portato l'orecchino dell'altra volta Bah, sto cercando di smettere Ma guarda, io ti dico verità Io ho un orecchino al naso da quando ce l'hai tu E non sono mai morto Sarà culo Sarà Ferguson Eh, chi ti puoi dirlo Allora, io direi che questa casa è vuota Che possiamo uscire Non c'è niente di interessante Sì, non c'è niente interessante No Allora, quella sopra mi sa che Quella sopra mi sa che c'hai sopravvissuti E del dentro c'hanno qualcuno Perché c'ha le barre alla finestra Ah, ok, ok, ok Eh, andiamo a vedere Non so cosa ti ho mollato giù Però mi svuoto dino e riprendo solo Forse l'acqua Lascia, te la lascio Lascia, lascia Eh, te l'ho bruciata Te l'ho bruciata Lascia, lascia Io faremo una puntata veloce Giusto di questi 3-4 ride Per vedere quello che c'è Eeeh No, facciamo una puntata veloce Solo di bestemmie E lascia, lascia E tra Vai di C'ha altro Neston Allora, ci vediamo qua Allora, la casa con Eh, andiamo insieme Perché secondo me qua abbiamo Dici che qua c'è Eeeh E allora prima devo Mangiare un attimino se possibile No, vabbè, fai niente Dai, dai Mangiamo dentro Mangiamo dentro No, vieni qua dal bagno Eccolo qua, guardalo qua Lo vedo Ne vedo uno con lo zailo Vieni Qui sono dentro Qui sono dentro Eh, occhio allora Ce ne sono Due, tre Da che parte sei entrato qua? Dal bagno Occhio, occhio Fermati, fermati Ok, allora Eh, guardala qua Qua ce n'è una Ok, non la vedi più Sotto ce n'è un'altra Di qua Eccolo Eccolo Eh, mu' è entrato Mind E c'è anche lo zailo Oh no No, no, no Sento ancora niente però E' qui, e' qui, e' qui Ok Casa pulita Ok La chiave la prendiamo perché? Allora, chiave, piglia la, bravo Ok Il giornale, matita, vabbè Non c'è niente interessante Ma, ma, ma Giacca in pelle No, la prendi te, la stai già prendendo? Sì Vai, prendi Però ci sono i pantaloni skinny Quindi lascio per te Macete Va, figlia Abbiamo tutto, poi ci dividiamo la roba a casa, dai Sì, dai, dai Il macete Cazzo Fighi Cosa? I vestiti Eh, beh, copron bene Dai, sono interessanti Ci stai Sei bello? Ok Mamma mia Mamma mia Allora Io qua riempio lo zaino Vai A manetta Vai, 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 vai Canovaccio è Bistori Riempi 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 Ascia in legno e tubo di metallo Mazza In cucina Eh, perché sono Eh sì, perché sono sopravvissuti Questi Che c'ha Che hanno Marcia Fatto i loro I loro lavori Chiavi Chiavi Prendiamo Non si buttano via Mai Questa è stata una bella presa Eh Questa è stata una bella presa Una bella casa Trovata Una bella spesa Proprio Una bella spesa Abbiamo portato a casa Sì, sì Il signorino C'ha uno zaino grande Guanti in pelle Via casa La cassettiera Sì, sì Poco o niente Nulla Abbiamo svuotato tutto Acqua Roba Del genere Guardare Secondo Riempi Tutto E poi Fuotiamo Andiamo Io Ho Un pochino fame Ma Vabbè Io apro Una stupa di verdure Apri Una No 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 Lascio a fare Andiamo Sì, sì Ma sto mangiando Io Tu Mangia Mangia Tu Mangia Ma Che cazzo Si esce Dal bagno Dai qua Io Chiudo Corro 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 Ok Ok Allora Ok Ho Messo tutto qua Dentro Anche la giacca di pelle Non ti preoccupare Si può andare a fare fonzi In giro per la città Io Sto mollando su tutto Ok L'ho fatto Allora C'è una Mod Che voglio chiedere Al nostro Caro admin Di mettere Che si chiama Paint Your Life Che ti permette Di dipingere Praticamente Qualunque cosa Con la vernice Tipo Che ne so Fare Tutti quanti I camion Rosa Per esempio Che voglio Cioè capisci Deve essere proprio il disagio E poi uno E poi uno Lo può Mestemmiare Cioè Capisci Tu Allora tu stai facendo L'apocalisse zombie Con Si si Capisci Capisci Tu Si si Tu vai Ci sta Ci sta Muscolo fuori Esatto E rosa Di fondo Rosa Di ocane Chi si sta Figo Senti ci manca Questa casettina qua A destra Da andare a controllare Mi sei vero Mi sei vero Mi sei vero Mi sei vero Io non ce la posso fare Cioè è più forte di me Fare queste cose Da disagiato Oddio Si ho capito Ma No però non puoi Non devi bloccare Le bestemmie Della gente E tutto No no vabbè Te le lascio Te le lascio Chi è che è arrivato Sì no è arrivato L'admin è arrivato Aspetta Aspetta che lo chiamo Admin Risponde Non ci sente Risponde Tazza bianca Qua c'è un cazzo Di niente Vincchio Comunque 10-10 10-10 10-10 Ok Ok La visita Qua Qua mi sa che L'ultimo Ok Silenzio Lompadino Stratisivo Vediamo Ho sentito Dei rumori strani E c'è una porta Qua di fianco Eh perché Ho mangiato i fagioli Prima No Non è quello Il discorso Mi richiudere Ah è questa Ok Va bene Sì Arrivo Abbiamo svuotato tutto Abbiamo svuotato tutto Eh penso Sì Penso Non lo so Alla metto sulla mappa Lì Ma sì Ah siamo noi mutati Ma sì Ma sì Ecco c'è Ciao Ciao Noi mai Non lo faremo mai Cioè È contro È contro È contro La nostra Religione Cioè Vabbè sta entrata Va bene Noi stiamo a fare ride Sì Ciao Ciao Allora Ti volevo dire che nella mappa Se tu guardi Se apri la mappa Bud C'è un palazzo Viola Giallo e viola Con un casottino marrone Sopra di noi Proprio Lo vedi Lago Questo laghetto a forma di verm Giallo e viola Abbiamo Il palazzo giallo con la X Sopra di noi Sì Ok Poi c'è quello viola E poi c'è un casettino marrone Accanto Ma quello viola Non segnato Esatto Quello intendi Andiamo a vedere il casottino piccolino Perché magari c'è Sì 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 Qua Sinistra E poi Due Sinistra Ok Sì Ok Ok Casottino che è questo qua No ma l'abbiamo visto questo casottino Mi sa eh Eh anche secondo me Però vabbè Almeno gli rimettiamo Eh il discorso è che dobbiamo tenere aggiornata la mappa Non è Metticela tu la X Dai Metticela tu la X Ok Facciamoci un giro nel quartiere Vediamo come è fatta la città E poi torniamo a casa nella Fatti un giro nel quartiere Vieni a vedere Eh? O no? Mamma mia Tu facevi il trapper Nell'altra vita Giusto? Io non ci vedo più Porca 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 Ok Come non ci vedi più? Faccio il giro Vieni a quartiere No 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 Vieni Scendiamo Qua la batteria a terra Però Arriva gente E in compenso io prendo tutto Per non si parla legge a considerare Andiamo a salutare la gente Cosa c'è in questi Cosi? Eh In tanto ho guardato Va 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 Cartucce cartucce Guardato solo davanti E ho preso un botto di roba Eh Questa è da aprire Non ho la chiave inglese dietro Aspetta che c'è uno dietro Vabbè sfonda No magari qua Aspetta che qui arrivano Arrivano genti No no tranquillo Tu pensa A fare le macchine Questo ci penso io Allora vediamo se abbiamo Una chiave inglese No E allora Andiamo di Di cattiveria Ok aspetta Vai aperto Vedi cosa c'è dietro Bondina Mi C'è il mondo Sì beh C'è niente di Però Bondina TIT Pronto soccorso Munizioni Pistola Sacco Sacca di Scatola di infezioni Tracolla Ah no mica Pia 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 Ok Preso tutto Di fianco hai già preso tutto Sì sì Preso tutto Preso tutto Vai Il camoccio Ci lascia a piedi Pessima Pessima No vabbè Ha fatto Abbondantemente Il suo lavoro Dai cazzo A scarti Sì sì L'ho visto anch'io L'ho visto anch'io L'ho visto anch'io E credo che sia la cosa giusta da fare Mi dispiace ma Lo sai che sono contro la violenza Ma Di quale Deve venire me Per Quale di Ok questo c'ha il pompa e il mangarello addosso e poi c'aveva anche i boxer marroni non so se sono nati marroni o sono marroni della zombificazione si insieme la cartigine intanto rascio giù stiamo partendo questo qua non lo saluti si c'è anche quest'altro qua ma che proprio sei proprio stronzo ma sei proprio stronzo c'è cioè dimmi te è inciampato si è fatto male un'altra volta al piede cioè io veramente è proprio il peggiorno è proprio il peggiorno c'è è agile e agire come veramente è una foca sì ora devo fare devo fare in modo che di allenarmi un po perché veramente a parte forma fisica sto prendendo forma fisica quasi sembrano male pensate e ma guarda prendi un omino senti ce n'è uno l'ammassi tu un po il fisico si arrivo devo cercare la pistola arrivo ok arrivo arrivo lascia finchia che malfidente che sei sei lento sei dio portami in cielo e questo qua chi l'ha visto vabbè non avevi messo quello sotto allora ecco ma morso sapevo io ha morso no ma va bello devi essere atletico come come un grillo cazzo non è qua li prendi da dietro boh 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 oh pagliaccio vabbè andiamo dai non siamo qua mica non siamo qua lo voglio ahhhh ahhhh ahhh ahhh ahhhh ahhhh madonna che migola che gli ho tirato ahhhh 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 Oh, ma non finite mai! Zitto che piove! Zitto che piove! Non ci voglio credere sta piovendo Vai 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 Sta per piovere Ma perché? Cosa? No, sentivo... Tutto tu... Tutto tu... Come se avessimo un... Se avessimo... Se stessimo portando un... Un cadavere nel... Un cadavere... Un... Mezzo morto... Un... Zubbie nel... Controlli se c'è qualcosa dentro a quella cosa... Questo... Contenitore... Tanto non c'è niente però tanto per... Chiave inglese... Sacco di compost... Direi che non servono... No... Possiamo andare... No... Ah però c'è una casetta lì! Eh... C'era dietro... C'era dietro... C'era dietro... Hai visto il... Hai visto il fulmine? Ecco... Dio... 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 C'è un'orda! Eh... Sì... Eh... Questo è massi... Sicuro! Sì... 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 Sei rimasti troppo fermi... Io sto morendo... No... 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 Dove sei? Dove sei? Eh... Ecco... T'ho preso... T'ho preso... Vieni qua... Aspetta che devo... No... Danno critico... Qua muoio... Non posso farci un cazzo io qua... Cioè non sta migliorando? Non... Non salgo neanche in macchina... Eh... Non lo so... Prova a guardarmi... Mi dà danno critico... Eh... No ma non scende... Va bene... Adesso... Mi sono... Dai... Aiuto... Mangio... E... Via... Si... Mangia... Mangia... Mangia quello che trovi... Figa... Sono... Sono... Il... 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 Cioè... Il baracchino... Quello... Quello che deve prendere i colpi... Per tutti... Porta... Ma... Si... Non capisco... Così... Cioè... No... Come faccia io... Davvero... E quello... Non mi sembra aver fatto... Chissà cosa... No... Mi serve cibo... Ma non... Non ne trovo... Aspetta... Vai tranquillo... Mi sto riprendendo... No no no... Vai tranquillo... Mi sto riprendendo... Pronto pronto... Si... Ti sentiamo... Quella... Mi è piaciuto il mio arrivo... No... No... Sei una merda... No... Perché lui sta... Nel momento... Peggiore... E... Non possa neanche bestemmiare... Ma non sei qui... Era stato... Aveva il collo lacerato... E... In quel momento... Sono... Sono apparsi... Tutti... Ti ha curato... Brutta merda... Oh... Ti ha curato... Adesso... Non capisco... Ma... Vaffanculo... Ma... Ero già bello di mio... Mi devi sistemare tutti... Porci dei... Adesso... Adesso... Comunque... Grazie... Vabbè... Uguale... Buonasera... Che brutta persona... Che sei... Mh... Mh... Ho visto che i tuoni... Non si sconda stavano... Non ci senti... Eh... Aspetti... Sei lontano... Sei lontano... Dicevo... Ho visto che i tuoni... Non bastavano... Allora... Ho fatto qualcosa di più... Eh... L'ho visto... Ma... No... Io gli ho detto... Io gli ho detto... Minchia... Ma... Che botto... Che si è sentito... No... Spera... Spera... Andiamo... Eh... Vabbè... Io sono andato dietro a lui... Ma... Vaffanculo... Porco il clero... La prossima volta... Zio... Che ho fatto io? Che centro io mo? Faccio... Che ti ho detto? Ma... Ma non hai sentito che... Volpi che ci sono stati... Che tronate che ci sono state? Che devo fare... C'è la registrazione? Riguardalo... Vedrai che te lo devo... Se... Sennò... Sono un coglione... E chiedo... Sì... Ma... Sono abbastanza... Sicuro di avertelo detto... Senti... Admini... Mi senti? Admini... Mi senti? Uuuu... 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 Vabbè... È sparito l'admin... Io... Io... Non... Eh... Ok... Eh... Ti siamo allontanato... Senti... Ok... Niente... Allora... Noi stavamo andando in base... Perché abbiamo praticamente finito la puntata... Perché abbiamo fatto una puntata di... Per reperire... Per cercare un... Un generatore che non abbiamo trovato... Sinceramente... Quindi... Anche perché ci siamo persi nel mondo stranamente... Però abbiamo visto tutte quante le case che ci sono qui nella... In Dovalle... Che non sono tante... Però... Penso che in un paio di giorni le possiamo pulire tutte... A parte gli zombie che ci hai messo adesso... E... Boh... Non c'è ancora? Ah sì... Ci sono... Ci sono... Raga... Ci sono... Ma se sono lontano non vi sento... Eh no... Se sono lontano... Vi sento... Ma non posso parlarvi... Ok... Allora... Tanto tu devi fare i tuoi lavori da... Da simpatico, no? Sì... Ok... Noi... Noi... La mappa... La mappa di... Della città... Vedi... Quella che abbiamo fatto noi... Ehm... Vediamo un po'... Ma quelle fatte sono con le X? Sì... 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 Ok... Ok... Quindi... Quelle senza X non hanno ancora visto... A zona... Cioè... Capisci a zona... Se hai fatto o meno... Ho capito... Se hai basticato o meno... Lato o meno... Sì... E niente... Noi abbiamo fatto questa cosa qui... Poi... Aspettiamo... Aspettiamo di finire... Di fare queste case qui... Poi andremo... Al... Al poligono di tiro... Dell'esercito... Mi sembra aver capito... Ai poligoni dell'esercito... E poi... Andiamo... Ho perso... March Ridge... E lì sarà un bagno di sangue... Secondo me... Strannamente... Ciao Massi... Ciao Massi... Buon lavoro... Non ci sentiamo più... Ciao... 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 Vaffancula te... Vaffan... Eh... Vabbè... In lontananza... Capito... Grazie... Grazie... Che mi hai chiuso la porta in faccia... Eh... Carissimi... Ancora torna... È così... È come... È come l'herpes... Una volta che ce l'hai... Si torna sempre... E... Io pensavo invece... No... E... Vabbè... 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 Bene... Quindi avete... Hanno assistito ad un momento... Abbastanza... Tragico... Abbastanza... Eh... Beh... Tragico... Mamma mia... Ben... Diverte... Divertevole... Eh... No... Ci sta... Ci sta... Ci sta... Io sono... Sono anche infetto... No... No... Nel senso... Fatti guardare... Fermo... 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 Eh... Eh... Fatti guardato... Aspetta un secondo... Ok... Non mi dà... Ok... Oh... Ma sai che non mi dà... Come faccio qua... Eh... Visita... E poi tasto destro... Eh... Sul... Ma devo fare... No... Tasto destro... Ah... Ok... Visita... Ehm... No... Io non lo so... Ogni tanto mi danno... Delle... Delle cose... A cazzo... Allora... Stinco e ventre... Stinco quello che dici te... Sì... Rimuovo... Rimuovo... E poi provo... Graffio... Mediocre... Infetto... Traccio sterilizzato... Ti metto... Eh... Ma me l'hai disinfettato prima? Anche... Ehm... Ehm... No... E disinf... Cioè... Allora... Vieni... Hai... Hai tu... O... Sì... Ci penso io... Ci penso io... Ci penso io... Aspetta... Ok... Ma tu ti eri già... Disinfettato... Ehm... Ehm... Ah... Ok... Eh no... Io mi disinfetto sempre... Eh... Ma non ce l'avevo... Se no mi disinfettavo... Eh... Ah... Eh no... Non neanche lo sapevo io... Eh... Questa macchina qua va... Ma sventi le luci... E tutti... Fatto... Fatto... Senti... Allora... Io direi... Di salutare... Direi salutare... Eh... Oggi puntatina veloce... Giusto per... Per... Farvi vedere quanto... Salutino... Quanto simpatico è il nostro admin... Quando entra in gioco... Ed è sempre una festa... Quando... Quando entra in gioco... Ehm... 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 Adesso... Eh... Vi lasciamo... Ehm... Ci vediamo alla prossima puntata... Ciao a tutti... Ciao admin... Ciao ciao... Ciao...